oroscopo di mercoledì 29 luglio ariete in questo mercoledì avvertirete il desiderio di uno spazio di solitudine dove poter riflettere su ciò che state facendo nella vita fate una sorta di tabella degli aspetti che vi convincono e di tutti quelli a cui occorre mettere mano toro oggi l'impulsività è mitigata dal senso della disciplina che rafforza la sicurezza e la fiducia delle vostre capacità proteggete il vostro sistema nervoso evitando l'iperattività e concedetevi delle pause regolari la vostra stessa efficienza ne beneficerà gemelli meglio pensare per voi che ogni difficile situazione è un trampolino di lancio per un glorioso riscatto tutto procede nonostante qualche intoppo fisiologico sul quale non dovete crearvi inutili timori quindi state agendo con coscienza cancro a volte la potenzialità non si concretizza sul piano pratico facendo leva sull'ottimismo però non perdete l'entusiasmo in amore essere single comincia a sembrarvi un po un problema ma con l'aiuto di venere oggi potrete contare sulla fortuna per incontri speciali leone siete ricercatissimi ma sembrate non comprendere appieno ciò che vi viene chiesto avete mai pensato di cambiare lavoro radicalmente se le parole venissero a mancare il cuore saprà come comportarsi vergine attendete da tanto tempo un incontro un esame un colloquio per una svolta tutta l'eccitazione sembra essere sparita ma è solo un po di paura istintivamente vorreste rimandare ciò che avete da fare senso però del dovere vi richiama all'ordine bilancia in questo mercoledì avete bisogno di trascorrere un giorno tranquillo occupandovi di piccoli lavori domestici che spesso sfuggono alla routine quotidiana riscoprirete entusiasmi che non sapevate di avere sviluppando la manualità e il senso pratico scorpione il traguardo si avvicina alle tanto agognate ferie ma non potete ancora tirare i remi in barca nonostante l'insistenza della persona amata che vi reclama ormai da tempo non perdete la concentrazione proprio adesso sagittario oggi tornerete su un progetto che avevate accantonato il fatto è che servirebbe spirito di collaborazione e voi per ora ne siete sprovvisti consiglio se siete sovrappeso bastano piccole correzioni nella dieta giusto per alleggerirla e privarla negli eccessi capricorno oggi non trovate le parole per descrivere la contentezza che vi invade avete raggiunto quello status che fino a poco tempo fa invidiavate agli altri potete festeggiare alla grande non dimenticate di fare un brindisi acquario giornata piuttosto leggera che potrà essere utile per fare il punto della situazione su voi stessi e sullo stato delle vostre ambizioni avete posto il denaro al centro dei desideri per un periodo ma sapete bene che non è assolutamente sufficiente pesci non è facile stare fermi vi sentite come in gabbia per tutte le cose che avrete da fare in questo mercoledì il vostro dinamismo è esplosivo un consiglio c'è differenza fra il preoccuparsi dei propri acciacchi alimentando l'ansia e affrontarli in maniera concreta per risolverli l'ansia e affrontarli in maniera concreta per risolvere